A proposito d'Europa, Annalisa Chirico oggi ha fatto una lunga intervista a Salvini sul Foglio e lui ha parlato molto del rapporto con l'Europa. Se dovessi darmi un titolo, che cosa è emerso? C'è una novità? Beh, ha detto che con un contesto mutato potrebbe valutare anche l'ingresso nel PPA. Quindi ormai il leader della Lega, che negli ultimi mesi ha chiarito che l'Italia resta nell'euro in Europa, ha usato parole di grande apprezzamento per l'ex presidente della BCE Mario Draghi, ha riguardito il fatto che sta valutando una nuova collocazione europea e la mia opinione è che fin tanto che ci sarà Merkel, il capo della CDU, difficilmente avverrà questo passaggio, ma l'anno prossimo la CDU va a Curesco e quindi mi sa che accade. Ma cosa Salvini ha detto anche che se diventasse Premier sposterebbe l'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme facendo quello che ha fatto per l'America di Macron. Allora ti ringrazio.